Benvenuti e bentrovati a un nuovo appuntamento con 264Zoom, il programma di approfondimento dedicato alle tematiche d'ampio respiro che caratterizzano il nostro paese, la nostra penisola per l'appunto, ma anche estendendosi il nostro continente, il nostro mondo. Insomma, come potete aver capito, 264Zoom è un contenitore massimo di varie tematiche, di ogni genere, dalla politica alla cronaca all'attualità, in particolare ormai vi conoscete appassionato dell'universo degli spettacoli. Oggi parliamo di musica, parliamo in particolare di opportunità verso il futuro, con la possibilità di dare a chi non ha voce, una voce importante in capitolo. Ma questo non lo farò io personalmente, lo faremo attraverso la direttrice del contest lunatica, Giulia Massarelli. Salve e benvenuta. Grazie Tommaso, possiamo darci del tu? Certo Giulia, anzi, grazie perché mi eviti anche delle incombenze di carattere formale che preferirei evitare, mentre tu di incombenze ne hai molte perché il contest lunatica è un contest ideato per dar voce alle donne attraverso un universo artistico al femminile. La locandina è la seguente, il bianco e il nero che si sposano per dar vita a lunatica. Per l'appunto, l'universo artistico al femminile che dà voce alle donne. In che senso Giulia? Esatto, detto benissimo Tommaso. Nel senso che è uno spazio proprio aperto all'arte femminile, o meglio, è uno spazio per le donne creatrici. Ecco, nasce come contest, contest musicale, infatti vede protagoniste 12 cantotrici, almeno nella prima edizione, e ogni serata di lunatica, comunque oltre al contest musicale, c'è sempre un'esposizione, una mostra che può essere pittorica, fotografica, oppure una proiezione di un montaggio di video. Insomma, è uno spazio artistico totalmente al femminile. Questo perché? Perché c'è una constatazione molto forte alla base, cioè il fatto che, soprattutto lo scorso anno, nel primo periodo in cui si ritornava a vedere i live, l'80% dei live che andava ad ascoltare erano capitanati da uomini, comunque erano maschili. E quindi nasce un po' così l'idea di creare un contest al femminile, andando un po' ad indagare, no? Le stesse cantautrici, tra le stesse musiciste, se veramente era un fatto mio personale di aver visto sempre, cioè almeno molto spesso uomini che suonavano e cantavano e meno donne, oppure era una cosa generale. Ho constatato, anche perché mi permetto di dire nel mio passato, comunque quando intervistavo molto più spesso artiste, di fare questa domanda, al fatto che è vero quanto spazio viene dato alle donne all'interno del mondo artistico, mondo musicale, soprattutto italiano in questo momento. E la risposta era sempre che l'80% era maschile e il 20% femminile. Ecco, quindi da questa constatazione... Scusami se ti interrompo Giulia, perché ovviamente è una tematica di carattere generale, da ampio respiro. Come lunatica si pone attraverso questo problema? È vero la valorizzazione e il tutto però, come emerge la figura della cantante a livello artistico in particolare? Guarda, questa è una domanda molto interessante, Tommaso, e ti ringrazio, anche perché l'idea non è quella di far emergere la singola cantante, ma è creare una sorta di condivisione, di spazio dove diverse cantatrici possono incontrarsi, possono confrontarsi e allo stesso tempo crescere insieme. Infatti una cosa che mi fa molto felice, che veramente non credevo fosse così possibile, è proprio il fatto che adesso molte cantatrici che si sono incontrate a lunatica per la prima volta, adesso suonano insieme o vanno a cena insieme, sono diventate amiche in un certo senso. Quindi è un momento proprio per far forza tra donne, tra creatrici e appunto tra artiste. Una cosa che mi ha colpito molto nella tua risposta precedente, hai parlato di una mostra pittorica, fotografica, in che senso? L'arte che sposa la musica? Allora, anche, nel senso che durante una serata di lunatica, oltre al contest e nello stesso locale, viene anche esposta una mostra che può essere pittorica o fotografica a seconda della serata dell'artista scelta. In particolare non si sposa con le tematiche o della serata, perché poi ricordo che ogni serata è tema anni 60, 70, 80 e 90, ma è un'esposizione, uno spazio dedicato a quella mostra, oltre al contest. Quindi non fuse insieme, cioè musica arte, ma comunque un modo per esporre e per dare spazio appunto a diverse artiste. Chiarissima, chiarissima sul punto. Hai parlato di sfida appunto tra cantautrici, una sfida che però ha un unico obiettivo, quello di far emergere la voce delle donne in un contesto più che mai complicato e come si svolgerà? Nel senso, l'artista potrà portare una sua sola canzone, più canzoni, come si svolge il tutto? Allora, ogni artista, infatti anche qui c'è una sorta di selezione, perché ogni cantautrice che partecipa a Lunatica deve portare due brani inediti e una cover, appunto tre pezzi. Però la cover, siamo stati un po' cattivelli, diciamo io e il mio staff, anche per dare un po' di brio diciamo al contesto, abbiamo scelto, scegliamo per ogni serata, ogni edizione lunatica, delle cover a seconda della serata, quindi ad esempio la serata anni 60, noi daremo cinque cover anni 60 di Cantare da Donne, dieci giorni prima della serata e le ragazze si dovranno preparare tutte e cinque le cover e durante la serata sarà il pubblico a decidere per loro una di queste cover da eseguire. Non so se sono stata chiara. Sì, sì, sul punto devo dire chiarissima, il pubblico quindi sarà anche una giuria, una sorta di giuria. Esatto, infatti ci sono due giurie, il pubblico diciamo popolare e quello creato da, diciamo addetti al settore, ai lavori. Ottimo, ottimo. E quali sono invece, ovviamente è una gara, quindi ci saranno dei premi, quali sono i riconoscimenti che saranno attribuiti alle ragazze che si esibiranno all'interno del contest? Allora, innanzitutto premetto che ci sono tre vincitrici, prima, seconda e terza e quattro premi, quindi la prima può scegliere uno di questi quattro, la seconda gli ultimi tre e la terza tra gli ultimi due. Quindi diciamo anche lì c'è ampia scelta. Comunque è simbolo anche del fatto che questo è un contest che ho scelto di analizzare insieme per la sua innovatività, perché effettivamente molto spesso si porta una tematica d'ordine sociale in un tema di competitività, invece lunatica personalmente mi ha colpito perché nella parità porta un premio collettivo, ma il vero premio per l'appunto è far emergere la propria personalità che spesso viene sopita. Scusami Giulia se ti ho interrotto, ti lascio proseguire con i premi. Hai fatto benissimo a sottolineare questa cosa perché per me è proprio il fulcro di lunatica, quindi non creare una situazione di competizione, ma una situazione proprio di confronto, di scambio e anche di crescita insieme, perché no? Comunque tornando ai premi, allora il primo è un giorno di produzione nel sinusoide studio di Marco Testa a Terni, poi c'è un pacchetto ufficio stampa, un concerto nel locale, in un locale romano e uno shooting fotografico con una fotografa appunto donna. E poi la cosa che ho notato Giulia, che sono tutti i premi che coinvolgono vari settori, ad esempio c'è per l'appunto la produzione, il giornalismo, il live, che una cosa che manca è lo shooting fotografico. Tutto ciò è arrivato attraverso un aiuto, perché ovviamente tu sei la direttrice, l'hai ideato tu e l'hai curato tu, ma insieme a te c'è anche Francesco Marchini che ha collaborato nella realizzazione del contesto. Allora, quanto è importante il gioco di squadra in questi contesti? Ah, è fondamentale Tommaso, perché è bellissimo, insomma, no anzi, è normale avere il punto o comunque tutto sotto controllo, almeno per quanto mi riguarda, e mi piace avere sotto controllo tutto, cioè io voglio essere messa a conoscenza di ogni movimento che avviene all'interno di Lunatica, ma semplicemente perché se almeno una persona di base ci deve essere per gestire il tutto. Poi mi piace molto anche dividere i diversi compiti, quindi Francesco Marchini, oltre insomma a sostenermi anche a livello emotivo, cioè lui è colui che sceglie le canzoni, poi le vediamo, le confrontiamo insieme, però lui è proprio l'addetto alla scelta delle canzoni. Poi c'è Leonardo Sinibaldi che è il presentatore, quindi lui si occupa di tutta la parte, insomma, anche del rapporto con il pubblico durante la serata, Francesca Cascella che è collega che ha creato il logo di Lunatica, e poi c'è Valeria Formentini che è collega che si occupa dei social, quindi anche della grafica dei social che possiamo appunto notare su Instagram e su Facebook, sulla pagina di Lunatica. Giulia, adesso io uscirei un po' dalla sfera, ma pur sempre restandoci, perché Lunatica è una porta d'accesso anche per una fuoriuscita verso quello che è il silenzio quotidiano. Ti volevo chiedere, quando le ragazze, le cantautrici si avvicinano al vostro progetto, quali sono i loro primi dubbi, i loro primi timori, le loro prime preoccupazioni? Allora, la cosa che noto sempre, proprio i messaggi in continuazione, sono le cover. Hanno una paura tremenda delle cover, ma credo sia anche normale, no? Uno perché dieci giorni per preparare i cinque cover sono molto pochi. E poi c'è di mezzo il pubblico, quindi oddio quale sceglierà il pubblico, sarà cattivo, sarà buono. Quindi questa sicuramente è la prima preoccupazione. E poi c'è un altro aspetto molto interessante, almeno a mio parere, è il vestiario, perché come possiamo vedere anche dalle foto, sono tutti a tema, sono vestiti a tema. E qui ringrazio Cara Massenzio, che è la nostra stilista, che lei si occupa veramente di vestire, vestire me, vestire tutte le ragazze durante la serata, quindi di truccarle, di consigliarle, collane, giacchetti e così via. Quindi ecco, sono delle cose, delle peculiarità, no? Anche oltre il contest, che però ci rendono in un certo senso uniti, no? Come posso dire. Tutto fa arte, perché appunto anche Chiara, nel suo essere una stilista, nel suo dare un gusto allo stile della serata, secondo me è arte. E a proposito di questo, andiamo un po' verso la profondità della dibattito, perché Lunatica nasce da un'esigenza precisa. L'ho un po' spiegata in precedenza, però io voglio che sia tu a spiegarla. Da dove nasce Lunatica, a livello emotivo soprattutto? Esatto, nasce proprio dalla constatazione, come abbiamo detto all'inizio, di dare più voce e spazio, in particolare qui, alle cantautrici, donne, ma in generale proprio all'arte femminile. Quindi perché non è una necessità? Perché molto spesso non ci accorgiamo che siamo invasti da, o comunque captati da artisti uomini, ma io non ne faccio una questione di genere, assolutamente, e non è neanche una questione politica, Tommaso. È solo un modo per esagerare, a volte dobbiamo esagerare per arrivare a una sorta di equilibrio. E quindi Lunatica è un'esagerazione, no? Perché effettivamente tutto, dopo, però l'idea quella finale è quella di raggiungere una sorta di parità, ecco. Il punto è chiarissimo. Avevo riflettuto un attimo sul tema, perché la cosa che mi chiedo è, è un tema che occupa tantissime difficoltà, un mare di difficoltà, soprattutto in un'epoca storica in cui questo, purtroppo, e va sottolineato assolutamente, è un concetto ricco di pregiudizio. Penso, in maniera molto semplice, quando i Maneskin hanno vinto all'Eurovision, verso Victoria De Angelis sono stati puntati gli occhi, non per la bravura, per l'abilità nella musica, bensì, però, come si este male? Come si presenta male? Usciamo da questo stereotipo, perché è veramente imbarazzante continuare a proseguire con questa narrazione. Lunatica vuole fare anche questo, Giulia? Beh, indubbiamente sì, cioè, uscire proprio da ogni tipo di schema, anche da ogni tipo di contest già esistente, perché l'idea anche di creare una serata a tema, anche questo, no, può sembrare un po' fuori dalle norme, dalle regole. E questo proprio per, in un certo senso, farsi notare, ma non farsi notare in, insomma, oggi no, l'era dell'immagine, l'era dell'impatto, è un veramente esserci, è un creare. Quindi, se quello per noi è un modo di esprimersi, un modo di essere partecipe in qualcosa, va bene. E quindi, allo stesso tempo, il discorso che facevi tu, no? È un modo per esprimersi, secondo me. Io sono questo, mi esprimo in questo modo. Chiarissima. A prescindere da tutti i pregiudizi, insomma, del caso, che comunque quelli purtroppo ci saranno sempre, no? Che personalmente continuerò a combattere, perché, sinceramente, un mondo con ancora questi pregiudizi mi ha letteralmente stancato. Parlando però di musica, torniamo un po' ad alleggerire il dibattito. Ovviamente c'è la voce, ma c'è anche il cantautorato. Quante sono, cioè, le cantautrici che si presentano per partecipare all'unatica? E poi parliamo anche della sfera musicale, perché sono curioso di vedere quante persone portano un'acustica o quantomeno una tastiera e scelgono di abbinare al canto uno strumento. Partiamo prima da quante persone si presentano per partecipare al contest. Allora, innanzitutto per questo primo contest, essendo la prima edizione, ho chiamato proprio le artiste più vicine, quelle ragazze che conoscevo attraverso questi anni, questi ultimi anni, e alcuni li ho proprio fatto scouting sui social. È che non è poco. Si parte così, eh? Si parte così, Giulia, è normalissimo. E una cosa che mi preme dirti, Tommaso, è proprio il fatto che adesso a volte mi capita di chiedere alle artiste, conosci altre artiste donne, no? Che vogliono partecipare, o magari se mi capitano dei concerti così per ampliare anche l'orizzonte, e molto spesso queste ragazze mi dicono, ma lo sai che effettivamente non ne conosco tante? E questa cosa mi fa pensare, perché poi se pensiamo che è una stessa cantotrice, quindi già nel mondo, quindi magari già circondata di altre artiste donne, fa pensare al fatto che non ne conosca tante. E quindi che Lunatica sia proprio un momento, no? Di veramente di conoscenza, di gruppo che piano piano si allarghi sempre di più, perché poi tra noi donne, no? Ci facciamo forte in questo, al di là di ogni pregiudizio, no? Del, oddio, un mondo di donne, ci sarà una confusione. No, non è assolutamente così, perché quando prima c'è la stima e c'è l'arte, io veramente lo posso confermare, ma lo possono confermare anche tutto lo staff di Lunatica, non c'è assolutamente conflittualità o invidie o cose insomma del genere. E secondo te, perché non ce ne sono tante? Perché sono sopite? Perché non hanno opportunità? Per quale motivo, secondo te, c'è questa paura, timore, ma anche blocco, non soltanto interno, ma anche esterno, nell'emergere come cantautrice? Allora, se sono tante o meno, non so quantificare il tanto, io so solo che ce ne sono, e l'unica cosa che posso dire, e anche constatando insomma dal vivo, è che manca quel, c'è il pudore che invece non manca molto spesso agli uomini, cioè quella sorta di sì, lo faccio, lo faccio dei miei social, però non voglio spingermi troppo oltre, chissà cosa pensano, quindi anche il pregiudizio, e forse è proprio lo spazio che manca, e questo appunto entra in gioco Lunatica. Anche perché in una, come dicevo prima, in un'epoca di immagine, forse molto spesso abbiamo colpa anche noi donne, che preferiamo altissimi uomini, anche per immagine possiamo dirlo, cioè perché ci attrae fisicamente, ci attrae esteticamente, per le donne questo fatto è più difficile, magari una donna si veste in un modo più esuberante, allora viene seguita, ma la donna, l'artista, che mette i suoi video dove suona e basta sui social, magari viene seguita meno, quindi c'è anche questo aspetto da non sottovalutare secondo me. Bisognerà necessariamente imparare a scindere quello che è l'aspetto esteriore da quello interiore, da quello che una persona appare rispetto a quello che sa donare, l'importante è valorizzare, secondo me, l'essere umano a prescindere dall'esteriorità, bensì nell'interiorità, e su questo punto so che sto scavando molto nella profondità, quanto punta Lunatica sull'interiorità della cantautrice, in questo caso? Posso dire il 90%, poi è bellissimo perché io con ogni artista instaurò proprio un rapporto di quasi vorrei dire amicizia, non vorrei esagerare perché comunque credo molto nel valore dell'amicizia, ma comunque un rapporto proprio di fratellanza, ecco, un facciamoci forza insieme, e questo secondo me è la base di tutto, perché siamo tutte nello stesso livello, sono tutte cantatrici emergenti, tutte con tanta voglia di fare, di suonare, ma anche a largo anche le artiste che vogliono esporre, magari alla prima esposizione l'hanno fatta proprio a Lunatica, e è bellissimo perché per loro è un mettere veramente nero su bianco quello che hanno sempre da uno nella propria cameretta, quindi mi ringrazio perché magari hanno, no, questa opportunità, ma io ringrazio loro per essersi buttati in un certo senso, essersi lasciati andare. E non è poco Giulia, tra l'altro ringraziando la regia del Prontissima Memorale Forcina, abbiamo visto nel corso del passaggio alcune cantanti con la chitarra, la tastiera, alle prese negli studios di registrazione, e questo è un altro passaggio importante di questa intervista, perché sì c'è la voce, sì c'è il canto, ma c'è anche l'accompagnamento. Quante cantautrici si presentano con uno strumento, a prescindere dal fatto che questo sia affiato, a corda, insomma, quanto è importante lo strumento per i partecipanti? Beh, lo strumento io ho sempre detto che è l'estensione del proprio corpo, no? Quindi è fondamentale, direi. A livello di quantità, io ho sempre cercato anche per ogni serata di lunatica di dividere, no, metà e metà, quindi magari farne due, perché ogni serata sono quattro cantautrici, fare due tastiere e due chitarre molto spesso, quando è possibile. Però ecco, non c'è una maggioranza di chitarristi, una maggioranza di pianiste in questo, sicuramente non preglute, anzi molto spesso le artiste suonano ambe e due gli strumenti o anche chi ne suona di più, che è percussionista. Quindi io e soprattutto non è detto che siano solo cantanti, possono essere anche poetesti allo stesso tempo e questo penso sia veramente la cosa ancora più bella, no? Perché è proprio una necessità di esprimersi in questo senso. Quindi loro lo fanno nel contesto lunatica, magari come chitarriste, ma poi uscite da lunatica sono delle poetesse, oppure sono delle pittrici. Questa è proprio la dimostrazione come l'arte al femminile lo può spaziare e è presente più che mai in questo caso. La domanda che mi faccio, è vero ci sono le cantautrici, le protagoniste assolute, ma capita magari che chi non abbia l'apprensione di suonare uno strumento si affianchi con qualche musicista, ci sono queste eccezioni oppure no? Allora, per le serate lunatiche, almeno per le semifinali, abbiamo chiesto alle ragazze, o meglio, abbiamo proprio, ci siamo impuntati sul fatto che devono suonare singolarmente. Quindi accompagnate dal proprio strumento. Per la finale, questo è un piccolo spoiler. Mi dai una piccola notizia allora, dai. Esatto, possono essere accompagnate da una persona, insomma, da uomo o donna, anche per cercare di far vedere che non è che siamo completamente chiusi all'universo maschile, anzi, ma per arrivare a quella sorta di equilibrio che cercavo di spiegare prima. No, ma il concetto infatti è chiarissimo, nel senso è un contesto più che mai inclusivo, puntato all'universo femminile, però è un messaggio, una rampa di lancio che per l'appunto attraverso questa parte musicale fa sì che poi tutto possa ampliarsi al massimo. Questo è un tuo piccolo passo, Giulia, però io volevo chiederti, a livello complessivo, guardandoti un po' intorno, qual è la situazione, lo stato dell'arte, secondo te, nel mondo della musica attualmente, per parità di genere, come siamo messi? Allora, innanzitutto mi viene da dire che proprio il discorso dell'arte adesso si punta più alla quantità che alla qualità e questo è un discorso che purtroppo non possiamo non vedere, adesso c'è di tutto, tutti possono fare musica, tutti possono fare arte, quindi questo è complesso nel momento in cui una persona valida dovrebbe uscire, secondo me comunque se valida uscirà a prescindere in qualche modo. Sarà più faticoso però, questo sicuramente. A livello di genere è quello che diciamo prima, in generale secondo me proprio c'è questa disparità alla base e questo è inevitabile, proprio su tutti i fronti. Lo vediamo nei contest, lo vediamo nei diversi premi musicali, ecco al discorso in generale dell'arte, adesso mi sono focalizzata sul mondo musicale, potrei dire la stessa cosa anche sull'arte pittorica, ma su questo non ho indagato approfonditamente, nel mondo artista, io sto considerando molte donne artiste ma non ho il panorama generale dell'arte pittorica insomma a livello di genere. Certo, ci sta, ci sta. È una cosa che, è un dubbio ovviamente, ma è una cosa che mi è passata per la testa in questo momento, tecnicamente non è un talent questo, giusto? Vi differenziate molto dal concetto di talent? Allora no, assolutamente, è un contest, quindi c'è una competizione, perché comunque contest prevede una sorta di competizione, ma non è prevista la competizione, cioè non si sente, ecco, questo è il discorso. In teoria come contest ci dovrebbe essere, però non è quello né lo scopo né appunto il fine di Lunatica, cioè perché comunque è una creazione di una serata, quindi la serata ha come format il contest, quindi si struttura sotto un determinato organizzazione, richieste di artisti e così via, però poi lo scopo non è quello di ho vinto io, vinto io e poi basta, chi si è visto si è visto. È una questione proprio di appunto, e tra l'altro mi permetto anche di dire che non finisce lì la situazione, insomma il rapporto con le ragazze, ma se posso, se ho occasione, magari altri contest oppure open mic, oppure io cerco sempre di contattarle e coinvolgerle, perché si crea una sorta di gruppo, no? Di appunto fratellanza, come dicevo prima, dove se mi capiranno delle cose, dove posso coinvolgerle, io le, insomma, glielo faccio presente e magari loro se disponibili partecipano. L'ultima domanda Giulia, che siamo quasi in conclusione, poi ovviamente diremo quando partirà il tutto, quale canzone vorresti che le cantanti cantassero? Perché io ne ho tantissime, io penso a Fabrizio Moro, David Bowie, chi più ne ha più ne metta, ovviamente a prescindere dagli inediti, però per quanto riguarda le cover, quale canzoni vorresti ascoltare con le tue orecchie? Beh, se mi permetti di dire adesso, qualsiasi canzone di Raffaella Carrà probabilmente potrebbe andare bene. Ci uniamo tra l'altro a un ricordo straordinario, in questi giorni di Europei il leitmotiv che ci ha portato dalle semifinali in poi è stato per l'appunto il canto di Raffaella Carrà, una persona che ha segnato non soltanto la storia della musica ma della televisione, ha accompagnato delle generazioni e in un modo o nell'altro ha segnato il paese, l'individualità. L'ultima domanda proprio per chiudere, abbiamo parlato di Lunatica tanto tempo, dell'iniziativa sociale, quando parte il tutto? Allora, il tutto partirà a settembre con la nuova stagione, con nuove artiste, sia appunto cantotrice che attrese dalle altre arti e vi aspettiamo, vi aspettiamo le nostre serate con la speranza poi che Lunatica da Roma si sposti on the road, quindi magari in giro per l'Italia, chissà. Chissà, l'importante è sempre sognare in grande. Grazie Giulia Massarelli, direttrice del contesto Lunatica e auguri per il futuro. Grazie mille a te Tommaso e a tutta Radio Cusano, grazie per avermi ospitato, per averci ospitati. Grazie a te Giulia, davvero, perché abbiamo avuto modo attraverso un'iniziativa sociale che ho notato e che ho ritenuto interessante di parlare di quello che è un tema cardine della nostra epoca, la parità di diritti e la parità di genere, però che è anche un dibattito coinvolto all'interno dell'universo musicale, non soltanto per quanto riguarda l'attualità, la cronaca, insomma c'è tanto, tantissimo da lavorare. Finisce qui, 264 Zoom, abbiamo parlato con Giulia Massarelli, direttrice di Lunatica di tutto ciò che coinvolge il contesto dell'universo musicale, grazie di cuore, Emanuele Forcina in cabina di regia, grazie a tutti voi cari degli spettatori e spero di vedervi presto. Grazie a tutti.